La stagione estiva è ben lontana dal termine ma il primo settembre rappresenta sempre un momento in cui tracciare il bilancio dei mesi canonici per le vacanze sulla costa versiliese. Un bilancio che non può che essere positivo nonostante tutte le problematiche legate alle difficoltà delle famiglie italiane alle prese con un caro vita che stenta a mollare la stretta. Diciamo che abbiamo recuperato bene in agosto perché comunque c'è stato un bel flusso, è cambiata ampiamente la tipologia di utenza che abbiamo perché comunque sono aumentati i soggiorni brevi, 3, 4, 5 giorni distribuiti sempre più durante l'estate quindi diciamo che abbiamo dovuto adeguarci a quello che è un cambiamento ormai radicale del sistema di fare vacanze in Italia. La previsione adesso è quella di un settembre ancora caratterizzato dalla presenza di turismo interno anche se la seconda metà sarà quasi prettamente di stampo straniero. Ovvio che in una certa percentuale pesa la mancanza di eventi anche se per gli operatori turistici la vera destagionalizzazione sarebbe rappresentata dai mesi tardo autunnali. Sì è normale che ci sia un calo degli eventi anche perché chiaramente diciamo che fino al 10-12 di settembre che non inizieranno le scuole ci sarà sempre con un turismo di base italiana. Stanno iniziando a ritornare gli stranieri, c'è un po' di flussi di tedeschi, parecchie persone che arrivano dal nord dell'Europa quindi diciamo che sarà forse settembre interessante sicuramente terrà il tempo. Diciamo che poi la vera destagionalizzazione non deve partire da settembre ma deve partire da novembre, dicembre, gennaio, ci deve essere un tre di unione tra quello che è la fine dell'estate e l'inizio del carnevale. Infine d'obbligo ribadire l'estrema incertezza con cui si chiude anche questa stagione estiva per i titolari degli stabilimenti balneari. Sì, siamo ancora come a 14 anni fa, purtroppo siamo ancora in atteso di una risposta da parte del governo che latita su questo argomento. Siamo sempre fiduciosi però onestamente inizia ad esserci la paura di arrivare alla fine dell'anno e essere sottoposti a queste gare senza delle regole precise. Diciamo che il governo deve dare le indicazioni precise ai comuni e soprattutto che i comuni non facciano questo passo in avanti che stanno facendo a seguito delle pressioni che arrivano dal Consiglio di Stato e dalla GICOM.